Molte volte Gesù ci invita a non giudicare, ci dice di non giudicare gli altri per non essere noi a nostra volta giudicati, ma c'è anche un'altra ragione per cui noi non dobbiamo combattere quello che ci sembra sbagliato, ed è che potremmo sradicare l'erba buona al posto di quella cattiva. Noi infatti spesso siamo convinti di sapere che cosa sia giusto e cosa è sbagliato, pensiamo di saper distinguere chi sono le persone buone e quali sono quelle cattive, ma in molte occasioni questo giudizio si rivela sbagliato. Ci mettiamo in compagnia di persone che invece di aiutarci a crescere ci portano in basso e magari ci allontaniamo da quelle persone che al momento ci sembrano essere negative, che invece sarebbero state le persone giuste per farci crescere umanamente e spiritualmente. Ecco allora che Gesù ci insegna a non sradicare l'erba cattiva, ma di essere sempre persone positive. Aiutiamo per quello che è nelle nostre capacità gli altri a vivere la loro vita e lasciamo a Dio il giudizio. Il male infatti è presente nel mondo, è stato il diavolo a seminarlo, ma noi non siamo stati inviati da Dio come giustizieri, ma come buoni seminatori. La nostra missione non è sradicare, ma seminare il seme buono della pace, della riconciliazione, e se una cosa è davvero ingiusta lascia che sia Dio a valutarla.